Lo riconosci? E' l'amico a quattro zampe che ti terra a compagnia tutti i lunedì digiuno. Non perdere il primo appuntamento con Tobia, il cane più grande che ci sia. Lunedì alle 20.30 su Italiano. Fa caldo nel tuo motore, questo caldo. Si può arrivare a 300 gradi. E allora prendi un olio minerale convenzionale e prendi Mobil 1 Rally Formula. Certo, Mobil 1 costa di più, ma guarda cosa può accadere ad un olio qualsiasi. Non credi che il tuo motore meriti più protezione? Mobil. Mi cambia l'olio? Chi cambia olio alla Mobil riceve fino ad un chilo di caffè lavazza oppure un asciugacapelli da viaggio. Et voilà! Versa, versa. Mesci, mesci, tavernello. Rosso, bianco, carne e pesce di tutto un po'. E' leggero come un volo. Tavernello, si posa sulla tavola per te. Tavernello, con vini Italia. Sponsor ufficiale Mondiali Novante. L'Italia di un gran vino è così. Tavernello Corvin, il vino dell'Italia a tavola. Scopri la nuova linea di bellezza per il tuo viso. Nivea Viso. Creme idratanti e nutrienti, ricchi di preziosi elementi. Nivea Viso. Per essere naturalmente bella. Nivea Viso. Rivela la tua naturale bellezza. Nuova linea. Fitgar Misura. Un talento naturale. Ecco perché chi dice basta alla solita pasta sceglie condipasta verne. Perché condipasta condisce leggero. Tutte verdure scelte, fresche, appetitose. Condipasta. Per la tua pasta nuova, che conquista. E inviando i tagliandi di controllo di condipasta, condiriso, fior di pesto e carciopotto, vincete 5 milioni al mese. E gran finale. 2 Y10, 5 vacanze per 2 persone e 100 milioni in gettoni d'oro. Condipasta è un'idea a Berne. Io sto sempre nel traffico e quando ho fame, perdo la pazienza. Quando hai fame, scegli qualcosa che sia anche buono. Mi mangi una fiesta e mi torna il buon umore. Mangia una fiesta e la vita ti sorride. Anche su Fiesta trovi i punti di Vinci Campione.